L'incontro di oggi è un incontro importante, secondo me è un tema fondamentale, il rapporto tra nuova e vecchia, diciamo, ammesso che quella digitale sia la nuova e quella tradizionale sia la vecchia, e si cercherà di capire un po' che limiti ci sono, soprattutto i cattivi e che cosa di buono invece si è fatto, a partire da un modo di udine, ma per arrivare a livello internazionale, in quanto al digitale di per sé non è democratico e ha bisogno di tutele, ha bisogno di garanzie e ha bisogno di molta riflessione.